La contraccezione è ancora un tabù per le donne italiane, se ne è discusso nel corso dell'evento istituzionale Her Promise, le aspirazioni di lei e il nostro impegno, organizzato da Organon, la società farmaceutica specializzata nella salute femminile, che compie un anno. Ne parliamo con Gadi Shenait, vicepresidente di Doxa Pharma. Quanto ne sanno le donne italiane sulla contraccezione? Allora, noi abbiamo fatto come Doxa Pharma una ricerca su un campione rappresentativo delle donne italiane, 18-40 anni, abbiamo intervistato mille donne, ne sanno molto poco. Prevalentemente, quando parlano di contraccezione, parlano di profilatici e parlano di pillola. Tutto il resto delle terapie, insomma, dei contraccettivi ormonali è praticamente scontro. Quanto viene utilizzata la contraccezione in Italia e quali sono le modalità preferite? Allora, alla domanda, un'intervistata su due ha detto che in questo momento non utilizza contraccezione. Il 30% non l'ha mai utilizzata e il 16% l'ha utilizzata in passato. E quando utilizzano qualunque forma di contraccezione, prevalentemente si distribuiscono tra profilatici e pillola. Perché la contraccezione ormonale è così poco diffusa? Cosa l'austacola? È un problema di informazione e soprattutto, e questo è il dato importante uscito dalla ricerca, di formazione. Sono tutte d'accordo, anche spontaneamente, che la formazione dovrebbe partire dalla scuola. Se no manca l'informazione. Manca l'informazione che soprattutto provano a raccogliere sui social, parlandone con le amiche, parlandone con le colleghe di lavoro, ma non è un'informazione sufficiente per prendere delle decisioni. Il rapporto con il ginecologo è un rapporto importante, però la ricerca segnala che nell'ultimo anno il 39% delle donne di 18-40 anni non è mai andato dal ginecologo. E la maggioranza di coloro, una parte importante di coloro che vanno al ginecologo, non parla di contraccezione. Cosa chiede la donna al contraccettivo? Che bisogni dovrebbe soddisfare? Al contraccettivo chiede innanzitutto sicurezza. Due tipi di sicurezza. La sicurezza ovviamente di non restare incinta e una sicurezza anche dal punto di vista delle malattie che si possono prendere, che è l'altro motivo per cui il profilattico va per la maggiore.